Vedi, vedi quanto è stato, eh? Ma stanno facendo un video Io lo fermo in ponte Oh, non ti voglio trombare, ma Oh, no, cazzo, che male, oh, fila, porca troia Oh, cazzo, che male, oh, fila, porca troia Oh, cazzo, che male, ti fissi Sì, grazie Non da me No, volevo dire, voglio un amico e miei No, 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 guarda Ma come siamo? Chi è venuto per una giornalista, ma valla di non so cosa, eh? Non è un... Fica, c'è la luce, vedi, che cazzo Arf, va, prima che torno a andare ho fatto il buco qua o il buco qua Chi? Ah, non stavo guardando, scusami Ma cosa è stato? Un video, zia Andiamo a stare anche io nel video, però va bene? no, non va bene, non lo fai eh, non lo fai io si, è pure traia sai che? puttana traia puttana traia parca traia eh, non puoi dire parola no, è stato malissimo sono sfigata non muore in treno muore in treno non ho fatto niente adesso che non scegli un treno non lo sceglo adesso qua si picchiano tutti qua si piccano tutti cono piccando tutti ma questo è un video dai vedi no ti prego è un video no la parte del mondo la persona veramente il primo la domani dopo un po' il buon e poi fatto un fatto non ho fatto un po' di 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 un po' un po' un po' ok faccio la foto su un po' per me no 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 un po' per il punto di vista ho fatto il capo la mia esperienza tira fuori il cuore di te per il giudice io ho la penna il popito per la testa di valore Grazie a te ahahah non c'è il strano mi chiedono mi chiedono e non mi chiedono un spandacinquecento a buttatelo adesso vaffanculo a te dai cazzo cioè proprio non ha un cazzo da fare che cazzo vuoi vabbè non ho proprio un cazzo da fare maianca non ho proprio che cazzo che cazzo